Allora che bello, il posticino che abbiamo trovato ieri, pescatori sul pezzo Bene, ci siamo spostati da Royal Hill, siamo in viaggio in direzione Barcelona perché stiamo andando verso la Poma dove troveremo altri spot per questa settimana da girare dopodiché io venerdì tornerò a casa, partiamo dopo la colazione Bienvenue en France, nella nostra giornata di filmaggio, interviste con Johnny E con un colpo di frusta, guarda un po', siamo a Campillo Tracing, la Poma, pieno di riders che girano durissimo C'è già Johnny caldo sulla bici, con un paio di guanti nuovissimo, wow Eh ma guarda vado fast, vai più veloce, ma mi diamo un po'? Oh yes Madonna, e a sorpresa c'è anche la Marty No, la Marty non c'è Uppala Uuuh, sole in faccia e viva, no vedi è ancora gestibile a quest'ora Oh, c'è vento So fast Ah, come al solito la Poma, non so perché apriamo la tele pomeriggio e c'è sempre il sole contro quindi proviamo a vedere un po' qua la linea grossa, dato che è l'unica che gira un po' più verso sinistra ma non c'è niente di buono qua Vabbè, vediamo Esattamente, non si vede niente Oh, troppo dietro Oh 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 Ci vedo Cicco Torniamo sulla linea grande, signori Cicco 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 Barracuda! Madonna mia! Signor, come stas? I'm good. The Barracuda, tutto bene? Still riding? Yes. Good. Where's the bike? Let's go, let's go. We'll do some trains later. Let's go! Yes! Yes! Knit improvement! Incredibile! Vedi. Non l'ha soggiornata la poma, è finita, andiamo a tirare sui train. Let's go! Dove? Eh, là sopra. Crabills. Secret. Non so cosa sia successo, ragazzi. Oh mio Dio! Si è alzato un filo d'aria qua. Siamo a Cabrins. Non so cosa si senta, ma siamo su questo monte vicino a Premi e De Mar. Ci sono dei train molto carini. Poi abbiamo preso la bici del Durello. Vediamo un po' cosa propone la zona. Se è questo quello che cercava Johnny oppure no. Belle queste curve qua. Pessime. Qua è di H-Estream. Vabbè, è chiaro che questo non è il tree che stavamo cercando. I local non ci stanno aiutando oggi. Abbiamo trovato un pezzo rideabile. Facciamo una clip qua. Arrivo. Guarda. Momento sgommatina. Perfetto. No way. Nuova zona per i nostri roi. Sei. Guarda. 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 vai fammelo lì che ti faccio una foto arriva no? c'è un po' troppo? e allora ok aspetta che guardo ok 1, 2, 3, arriva era un video o una foto questo? video John Wick che è un grande cercatore di tesori oggi ha trovato un fasso bellissimo e allora noi lo scendiamo camiseria adesso dobbiamo entrare in Narnia e poi ecco si è impigliato un ramo nel piscale usciamo da Narnia ecco l'ho fatto arriva oh ah p***a di robia ah si si no non ti fermi mica arrivo è incredibile ok arrivo guarda qua il salto della morte un sacco di sassi qua ci sono che belli questi sassi mi sei messo te? andiamo nei saltini ragazzi oh 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 questo John ha una stecca eh oh raga mi sono dimenticato di filmare che stavo andando via e di salutare Johnny però vabbè Johnny stami bene possiamo dirti un sacco oh la bici è già arrivata quindi domani posso andare a girare il Vittoria Park e noi ci vediamo nei prossimi video in prossime avventure spero che questi vi siano piaciuti ah yeah awesome ciao 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 ciao